Io credo che ieri la firma di 5 accordi col Presidente della Regione rappresenta una svolta nei rapporti istituzionali tra il Comune di Napoli, la città metropolitana e la Regione Campania. Sono accordi veri, non protocolli di circostanza. 100 milioni di Euro destinati a settori strategici, quale ambiente, rifiuto, lavoro, sport e riqualificazione del territorio. Quindi sono molto soddisfatto perché è un lavoro fortemente voluto dalle persone più vicine a noi e al Presidente della Regione. Quindi un buon auspicio per un netto miglioramento del livello istituzionale di cooperazione, fermo restando le differenze politiche. Questo è un altro aspetto di grande democrazia di questa città, dove ci sono autonomie politiche forti e un sempre crescente livello di cooperazione istituzionale. Così come in città metropolitana, dove non ci sono maggioranze perché la legge non consente di avere maggioranze e io ho chiamato tutte le forze politiche alla cooperazione istituzionale. Ci sono diversità enormi col Partito Democratico, con Forza Italia, con gli altri che fanno parte della città metropolitana eppure il dialogo, la cooperazione istituzionale sta portando a un clima istituzionale di cui se ne beneficiano i cittadini. Nel momento in cui gli enti locali vengono lasciati soli dal punto di vista economico e finanziario, parlavamo prima dei diritti che vorremmo garantire, uniti nelle diversità noi possiamo dare una risposta forte. Ed è molto bella questa immagine di una città autonoma, di una città governata da un sindaco e da un'esperienza lontano da ogni forma di sistema politico eppure che non c'è nessun atteggiamento di prosopopea, di presunzione di superiorità o di presunzione nei confronti delle altre forze istituzionali e politiche con le quali noi vogliamo dialogare. Ieri si è registrato un passo in avanti importante, stamattina su altri tavoli stiamo lavorando su Bagnoli e ci auguriamo che il mese di luglio possiamo dare altre ottime notizie alla nostra città e alle nostre comunità.